Mirko Brunetti pronto per una nuova avventura nei prossimi giorni, l'annuncio sui social dell'ex GFino Mirko Brunetti torna sui social con un importante annuncio, l'ex concorrente del Grande Fratello, che nei giorni scorsi è finito sulle prime pagine di gossip dopo le voci su un presunto tradimento ai danni di Perla Batiero, immediatamente smentito, ha dato una lieta notizia ai suoi fan Il giovane imprenditore laziale in una storia Instagram si è mostrato vestito elegante, pronto per una giornata di lavoro che potrebbe dare il via a una serie di novità molto importanti, a giudicare dalle parole dell'ex GFino, weekend di lavoro, nuovi progetti e nuovi contenuti, ha scritto Brunetti intervenendo su Instagram senza dare però ulteriori dettagli che potrebbero essere svelati nei prossimi giorni Mirko ha poi chiarito come sono andate le cose, dopo che si è vociferato di una notte trascorsa con un amico e due presenze femminili in una villa, in tutto fatto alle spalle di Perla Le cose però non sono andate effettivamente così, la storia cancellata dal mio amico, che tra l'altro sta subendo minacce e offese indicibili, non aveva nulla a che fare con quanto riportato e soprattutto non con me, era stata fatta a casa sua e tolta perché con la targa della macchina visibile Inutile precisare di non avere dormito in quella casa, perché trovo tutto questo deprimente e pericoloso Situazione che è immediatamente rientrata, con Mirko che è stato pizzicato in compagnia della fidanzata Situazione che è stata fatta in compagnia